Il 15 d'October, Soncia Teresa Dávila Purjala. Soncia Teresa è nascita il ventoio di marzo emilia 15 a Dávila in Spagna, orte fece pietosa famiglia. La buba del 11 è educata in tema di Dio e che leggeva particolarmente, orte la vita di il sogno, ha messo il ciao, upitir in perpeto, ni salagrar in perpeto. Qualche vuol dire, endirar peines infinites, ni goder leggerments infinites. Colpa tracci di aver sponso il suo sango per l'amore di Cristo, venne con il suo fratello di fuggire di scusami all'Africa, per aver loro che giunti di essere martirizzati. Molto ora, capiglia di due loro, e manano omni due sposti a casa. Da mai che chi ha bo di due loro essere, si decida di loro di diventare eremi. In loro ora, fanno loro due setti, per orare e fare esercizi spirituali. Teresa ha 12 onzi, con la mia mia. tra cui fa la amistezza con sia apparenza, che vove fece mondana, e che vese glai di meno e la vita, sin le svanedate del mondo. Il papo admonisce la sua figlia, e mette a ella tir las monesas del sogno Augustin. che vese treze entesi fallimenti, e renovece i proprii faici entesi amprimzons. In genoia, se vanno il malec da nostra donna, suplica a ella Maria da desa sia protettura e sia mumma pilli a venire. Col vod di salvarla castedat, volela vivere in una claustra. Con consentiment del bab, va 3.131.000, il 2 novembre, in claustra di le scremalite di Avila. Durante il suo ono di noviciato, fa la sonzione nua d'autore che da se humilare e mortificare il cerchio, congiudini e penitencii. Qua estrapazza la sanità si fece, che la fa altre dolorose malzoni e sto sarendere a casa per venire madagata. Durante quattro dìs, sta treze leucenze scienze, è visita per morta. Il bab, sera camon da son Giuseppe, e il quattro dì, venne la malzona tia sassetza e palaisa, da aver viu in quei tempi, o fiene per vis e d'autres causas tupadas. Puspaissàuna torna Teresa in claustra, ma per via delle piarze visite da seculare, daventa è la negligente ente urà. Dio d'antòm vuol mantenere quel olma e tormenta sia con scienze con temes, angosti e cruzi. Ficci confondita semetta las ore in genoios avon in cruzifics, braggia Petra main roga per perdun da sia negligenci ed em permetta da mai pli stridarsi u divinspus. Favorizzata con grazies e revelations divinas, sala sonce bagagiasi trentadduas claustras. Quellas heile mes in buona disciplina e tras ordinar strentes regles che ha implitato era venides acceptates dels padres. Tras quai astia soncia 13 vigni di una denominata Reformatura e momma di l'Urdan Carmelit, confirmaus da Papa Pius il Quart. Per subvencer fadiges e difficoltats, se volve ella plein fidonza e speronza di a Siu Divinspus. Tia tot quai deciderece la soncia da pittir per mur di Iesus Christus cos plaits. O Signor, o pittir, ni muri! E d'ascia eis ela durante quarenta ons bo sta daxenadiada da zon biaras malsonnes. Per quai eis ai bodas esmervellar que Soncia Teresa hastiau goder del Ciel particulares favours e que Iesus, Maria, Son Giuseppe e d'autres sonnes ha incumperi e consolau ela. Biaras causas a un bo davantadas ha la soncia profetisau e serviu declarar co elas deventien. Consumada da malsonnes, fadiges e penitencias, se retrai ela ad alba en sia claustra, nua che ela profetizece il di da sia mort. Cau raciaiva Teresa il son sacraments, dat a sia soras bons cussells e visa elas deviver en paz, carezia et observar la regla. E in forma di nebiala colomba, ai si olmer luzgulada ter siu divin salvater, il 4 de octobre di Lyon, in 1952, accompagnado d'un gran diembro d'Angels. Impumés per si a cela, ha sinquai la dinamain e incerta a flurir. Papa Grigori, il quindigável ha ion in melio 622 canonizau la gronda survienta de Dio, che ha scevano vos piarskodiš splains da sabienča celestiala.